Cominciamo dalla saggistica? Dai, dilla a te. Allora, vince il premio per la saggistica Pietro del Soldà. Congratulazioni Pietro. Se vuoi salire poi così ci facciamo la fotografia. Noi abbiamo calcolato i singoli voti dei componenti dei circoli di lettura come se fossero, comunque è una cifra grossa, un circolone di lettura di quasi 400 persone. E queste 400 persone mi sembra che abbiano votato per Levantino, vero? Dario Levantino. Grande, bravo. Prenditi la targa e via. Ragazzi, poi volete dire qualcosa rapidamente? È una grande gioia, grazie, davvero. Che bello. Dario. Io, oh mamma, sono contento, sono contento. Non mi costringete a dire delle cose retoriche, sono contento. Ho scritto questa storia un po' di anni fa, quando ho lasciato la Sicilia per lavorare. L'ho scritta per, non lo so, forse per farmi compagnia o forse per sublimare una mancanza. Non pensavo che potesse essere pubblicata, figuratevi se pensavo che potesse vincere un premio. Quindi sono molto contento. Torno a casa con il sorriso da scimonito sulle labbra, che è una cosa bella e importante. Per, non lo so, forse per, non lo so. Grazie.